Sì, Maurizio Acerbo, intanto che arriva, ricordo anche che Transform Europa sta promuovendo anche un progetto di dialogo marxisti e cristiani, cattolici, e abbiamo fatto anche l'incontro qualche mese fa con il Papa direttamente proprio per promuovere questa possibile cooperazione, dialogo che è sicuramente fatto tra diversi e quindi non un appiattimento su una posizione o sull'altra, ma la possibilità di guardare le difficoltà del mondo e provare a costruire sinergie, questo era il senso e quindi sono contento anche che Transform Italia partecipi alla rete dei numeri pari e che partecipi con questa, a questo dialogo che non è più solo a distanza con il Papa. C'è rimasto solo il Papa, diciamo, e non lo dico perché credo che questo incontro di oggi di Transform si inserisce in una fase in cui abbiamo bisogno di dirci parole di verità, da questo punto di vista condivido le cose che diceva Franco Russo, siamo di fronte a una crisi della sinistra radicale in Europa come dimensioni enormi, qualche anno fa venivano dagli altri paesi europei un po' baldanzosi e ci dicevano che loro non avevano i problemi italiani o la sensazione che stiamo marciando molto rapidamente alla condivisione dello stesso quadro di problemi, dalla spaccatura in Germania, ma anche quella in Spagna, ma anche quella in Francia, o quello che è accaduto in Grecia con la mutazione di Siriza, ricordo che nel 2014 eravamo dentro un ciclo in cui si sperava che da Atene partisse, non dico la rivoluzione europea, ma una messa in discussione dell'egemonia del neoliberismo sul nostro continente. Ricordo che quando andammo in Centinaia con la brigata Calimera Atene facevamo un primo incontro all'università, affollatissimo, dove il nostro amico di Transform, Aris Golemus, disse una cosa bellissima, profetica purtroppo, disse o riusciremo a cambiare la Grecia e quindi anche l'Europa, cioè a dare il via a un processo europeo. Oppure ci faranno fuori come hanno fatto fuori agli Ende, eccetera, oppure ci omologheremo, come già accaduto a tante altre formazioni della sinistra in Europa. Mi pare che il mix delle ultime due opzioni si sia realizzato, lo dico non per colpiorizzare le compagnie, e i miei compagni che in Grecia hanno comunque fatto grandi cose per i quali conservo il massimo rispetto. Ma per dire che siamo dentro in una fase in cui viene il dubbio, su cui secondo me noi dovremmo fare una riflessione radicale su quanto il sistema politico-economico in cui siamo inseriti sia oramai talmente blindato rispetto alla trasformazione sociale, al cambiamento, per cui anche le spinte che sembrano più forti poi vengono in qualche maniera rimesse al loro posto. E' accaduto in Gran Bretagna, dove il corbinismo, che aveva dimensioni di massa, è stato praticamente ricacciato indietro. Si è preferita la Brexit ad avere un governo di ispirazione socialista e anche, suggerirei, antiimperialista e anticolonialista, perché Corbyn forse era indigesto per le sue visioni di politica estera, ancora più che per le sue visioni di politica interna, sociale, economica. Abbiamo visto, insomma, come anche come sinistra europea, nel suo complesso, in tutte le sue componenti, sia quella che sta nel partito della sinistra europea, ma anche le forze nate successivamente, non siamo riusciti neanche a diventare protagonisti di un grande movimento in Europa contro la guerra, che pure da due anni condiziona completamente la vita del nostro continente, la sua evoluzione politica, sociale, economica. Da questo punto di vista io invece non condivido un aspetto dell'intervento di Franco, dialogo con lui perché mi ha stimolato. Quello dei sondaggi, è evidente che noi dovremmo leggere la realtà non attraverso i sondaggi, che tra l'altro la fotografano e molto spesso la creano in funzione conservatrice, però le elezioni sono anche un metro a cui non ti puoi sottrarre. È come la riuscita di uno sciopero. Noi sempre più rischiamo di diventare come quei gruppi americani in sinistra, generosissimi, ma totalmente ininfluenti e rissosi tra di loro, divisi, eccetera, poi con analisi bellissime, eccetera, però sostanzialmente non in grado di incidere sulla vita della propria società. E le elezioni questo ce lo ricordano, perché comunque riguardano i milioni. Il giorno delle elezioni milioni di persone decidono se andare a votare o non andare a votare e i sondaggi un po' questo lo fotografano e quindi ci ricordano che la politica, almeno la nostra, se ha l'ambizione di avere una forza di cambiamento sociale, deve trovare tutte le vie più originali possibili, le analisi più profonde, però non può non fare i conti con i milioni, perché io quello che vedo come pericolo nella nostra area è che sempre in più ci abituiamo alla contemplazione del nostro piccolo mondo e delle nostre bolle. Invece noi credo che abbiamo il dovere morale e politico di tornare a ragionare su come si costruiscono dinamiche di massa sul piano sociale e sul piano politico. Io penso che non possa essere in nessuna maniera scantonato il tema della rappresentanza, perché è vero che gli altri sono in crisi, però negli altri paesi europei la sinistra radicale in qualche maniera è ancora protagonista del dibattito pubblico e questo io credo che incida anche sulle dinamiche sociali, come dimostra la vicenda francese, mentre nel nostro paese, oramai da troppi anni, siamo al di fuori del dibattito pubblico e questo è uno degli, quando dico del dibattito pubblico, del dibattito che riguarda i milioni di persone in carne ed ossa. Perché poi alla fine quando nei bar si discute, come ci ha insegnato Lula, quando si venne a trovare all'uscita dal carcere, delle cose che proponi tu, che vuol dire che qualcosa stai facendo dal punto di vista della trasformazione, lo dico perché siamo di fronte e vengo alla questione che più mi interessa in questo momento e che è stata evocata in molti interventi, alla nostra impotenza rispetto alla guerra. Quello che sta accadendo, lo avete detto tutti prima di me, quindi non devo aggiungere molto altro, è dimensioni di una gravità estrema che alcuni anni fa sarebbero state impensabili. Pensate un po' al fatto che discutiamo del ritorno della leva perché c'è bisogno di truppe per fare le guerre è una cosa così come, come ci ha ricordato il regista della zona di interesse, noi siamo di fronte a un genocidio in diretta, teletrasmesso, quotidiano. Allora rispetto a tutto questo io credo che noi abbiamo l'esigenza di ragionare sia su come rompere la gabbia in cui ci troviamo in Italia, ma non solo in Italia. Dobbiamo anche, credo, ragionare su una cosa che è una sconfitta enorme tra di noi, cioè l'alternanza tra poli molto simili appassiona le grandi masse più della guerra in Ucraina e dello stesso genocidio a Gaza. In altri tempi il vertice del Partito Socialista Europeo l'avremmo accolto a Roma con gli scontri fuori dalla porta, dato che è il vertice del partito di Stoltenberg, ma si è svolto 10-15 giorni fa a Roma, in cui tra l'altro dal punto di vista degli impegni assunti sulla questione della guerra non c'è stato alcun dibattito. Cioè nel senso che mi pare che siano tutti d'accordo, non è che ci sia stato una parte, che ne so, è Lichlein che ha polemizzato qualche di un altro dicendo no, come socialisti europei dobbiamo riprendere in mano l'eredità di Willy Brandt e di Olof Palme. Lo stesso Consiglio Europeo vede sostanzialmente con toni diversi la convergenza di tutti, non ho sentito resoconti in cui qualcuno ha sbattuto la porta. Di fronte a questa grammaticità io credo che noi dobbiamo prendere sul serio la questione della guerra e lo dico, io considero anche una sconfitta che dentro la sinistra non abbia, intesa anche nel mondo intellettuale della sinistra, non qui dentro, fortunatamente non abbia la centralità che dovrebbe avere, anche la drammaticità. Un grande poeta americano, Lorenz Ferlinghetti, diceva che il sistema politico americano era un uccello e un uccello con due ali destre perché sostanzialmente i due principali partiti poi se si tratta di bombardare i popoli del terzo mondo sostanzialmente non hanno grandi differenze. Noi in Europa stiamo diventando la stessa cosa, lo stiamo diventando in Italia e questo riguarda anche il cuore del nostro popolo, cioè di quelle che con noi hanno condiviso per anni manifestazioni, social forum, eccetera, eccetera. Io lo dico come tutti voi sono un antifascista, però santo cielo e voglio dirlo, durante il governo Draghi in almeno cinque città italiane gli studenti sono stati sprangati dalla polizia come a Pisa e non c'è stata nessuna reazione di... Nessuno manco ha fatto il paragone con Genova, lo dico al mio compagno Giovanni. È una normale amministrazione perché c'era il Partito Democratico e il governo, il Tg3 non ne ha fatto la prima notizia, nessuno si è strappato le vesti alle 20 e 30 da Lili Gruber ed è tutto finito così. Rispetto a questo scenario che ha qualcosa di totalitario a mio parere perché dà l'idea che sulle cose serie e essenziali non si discute più, non ci si appassiona più, anche la vicenda del Comune, io ve lo dico perché io penso tra l'altro che sia necessario recuperare una dimensione unitaria della sinistra in Italia, quindi il mio intervento non ha uno sfondo settario, però francamente che la vicenda del Comune di Bari dove delle Stofanti che dal centro-destra sono passati al centro-sinistra perché in Puglia hanno arruolato di tutto e di più dentro il centro-sinistro diventi una super battaglia democratica che riempie le piazze, francamente a me dà l'idea che il bipolarismo ha vinto ed è una gabbia d'acciaio che segna la vita politica del nostro paese in una maniera molto drammatica perché cancella anche gli elementi più drammatici. ci diceva un grande scrittore molto pessimista americano William Barrocks che quando, e su questo chiudo, quando in un sistema politico in un dibattito da presidenti degli Stati Uniti diceva se entrasse un elefante non se ne accorgerebbero e poi l'ha ripreso l'ACOF nella famosa un guardia dell'elefante ecco noi abbiamo la guerra e stiamo ancora a discutere e appassionarci delle elezioni nella mia regione dove l'Alleanza Verdi Sinistra ha eletto un solo esponente ed è uno che era dieci anni fa candidato al centro-destra per dire non il PD d'Alleanza Verdi Sinistra dico tutto questo per dire che se almeno riusciamo a usare la campagna elettorale delle elezioni europee per farne una campagna di massa contro la guerra avremmo fatto qualcosa di utile cioè cercato di restituire al di là delle percentuali ovviamente io auspico una battaglia per fare sì che ci sia una sola lista di chi è contro la guerra e contro il genocidio e il massacro a Gaza però se riusciamo a farne una campagna che almeno costringa a discutere della questione più importante in questo momento avremmo fatto una buona cosa e dobbiamo tutti lavorarci e voglio citare solo un tema di lavoro riprendendo per Transform e tutti noi riprendendo l'intervento di Faso è vero la critica dell'ettonocentrismo e sacrosanta del colonialismo occidentale anche l'idea che lo stesso amico e compagno Michele Santoro con cui condivido molte cose compresa la lista però questo problema a dire la parola genocidio la storia dei genocidi non è cominciata con l'olocausto anzi l'olocausto l'ha importata in Europa dopo che su scala industriale si è fatta in tutto il mondo da parte dell'Occidente e quindi si può usare la parola genocidio anche quando si consuma da qualche altra parte un tema però che ci dobbiamo porre io credo è che la critica dell'ettonocentrismo dell'eurocentrismo, del colonialismo che stiamo vedendo all'opera anche nella solidarietà io ritengo obrobrioso per esempio la maniera con cui tutto il sistema politico italiano ha espresso appoggio incondizionato a Israele dopo il 7 ottobre avendo Israele un governo fascista cosa che non è una circostanza scoperta dopo quattro mesi però io credo che noi come sinistra che rimane tale abbiamo un problema su cui riflettere come la critica del colonialismo, dell'ettono, dell'eurocentrismo eccetera non si traduca in critica dell'universalismo perché noi rischiamo che il capitale in questa fase assai distruttiva e predatoria produca non solo la barbarie occidentale ma forme barbare di opposizione all'unipolarismo occidentale altrettanto repellenti e quindi come salviamo l'universalismo delle culture socialiste comuniste, femministe, ambientaliste cioè il progetto di una umanità comune di una futura umanità di libere ed uguali